Dopo la vittoria del Barletta contro il Matera con il mister Fabrizio Mascia ovviamente le chiedo come prima domanda che impressione ha avuto della partita avete fatto una bella partita, finita 3-0 poteva finire con molti gol di scarto Sì, abbiamo fatto una buonissima partita, considerato che andavamo in trasferta quindi non è mai facile, l'ho detto già ai ragazzi sì, un bel gioco, abbiamo fatto molto bene, molto bene è solo che dobbiamo focalizzarci un po' più sulla finalizzazione abbiamo sprecato tantissime palle-gole come ben sai, se la partita non la chiudi, alla fine rischi una beffa su palle inattiva Infatti il Matera ha avuto qualche opportunità su palle inattiva per fortuna per voi non ci sono state occasioni nitide per loro l'avete portata comunque a casa, nonostante avete sbagliato due rigori che comunque sono stati bravissimi, entrambi i due portieri del Matera quest'oggi ma abbiamo visto anche alcune uscite da parte dei giocatori vostri che comunque hanno avuto difficoltà fisiche, non abbiamo ben capito Il campo era nuovo, nuovo sintetico, diverso da quello in cui ci alleniamo noi, il Manzi quindi comunque questo può aver influito poi naturalmente abbiamo comandato tutta la partita sempre a grandi ritmi poi ho la fortuna di avere dei cambi che mi alzano ancora di più il livello quindi devo fare i complimenti anche a chi è entrato a partita in corso e chi entra e soprattutto mi è piaciuta quando la partita si è un po' abbassata di livello tecnico quindi si è un po' incattivita la mia squadra comunque anche se è stata una partita sporca l'ha interpretata al meglio Ecco ora avete 10 punti in classifica, avete un buon attacco, una buona difesa ecco adesso ripartirete proprio da questo per la partita che avrete la prossima settimana contro il Nardò Sì domani rivedrò la partita di oggi grazie anche alle vostre riprese poi vediamo un po' cosa non è andato al meglio e ci lavoriamo in settimana Sabato abbiamo un'altra partita molto impegnativa ma come ti dico sempre ci concentriamo sul nostro percorso di crescita Ovviamente ringraziamo Fabrizio Mascia per questa intervista nel post partita di Matera Barletta e vi facciamo ancora un in bocca al lupo e un complimenti per la vittoria Grazie a voi